Ciao a tutti, io sono Mr. White e dietro le quinte c'è 997 Luther Ciao! E in questo video vi vorrei spiegare, come avevo già detto in uno scorso video, la mia cassetta che mi hanno appena comprato per andare a pescare il back bus. Io con questa cassetta non ho popper o altresche particolari, sono soli permoni, quindi non faccio fatica a portarlo perché è piccola. Vediamola. Guarda, 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 aspetta, come si fa la montatura per il black bus, guardate anche quello. Questo è quello col ferramone, il ferramone e mamma mia, ecco qua. Poi l'altro ferro. Divide i compartimenti con amigiganti e girelle. Sì, così grande. ecco qui va bene questo è un video super veloce ma è questo che abbiamo mostrato non faccio vedere la marca perché è un'obbilità occulta quindi vorrei dire che vi consiglio di comprarla e non di comprare quell'altro perché perlomeno se non andate in auto allora lì è scomoda invece questa qua io la metto in un marsupio con dentro anche le forbici per slamare e forbici questa qua e poi porto lo zano e così sono molto più comodo e basta quindi ciao a tutti da Mr. White e 997 Lutra ciao ciao ragazzi